È l'assessore all'urbanistica del Comune Daniele Ferella a mettere un punto alle polemiche che si sono aperte in merito al centro polifunzionale gestito dall'azienda per il diritto agli studi donato nel doposisma dal Canada e non riaperto a casa della mancanza dell'agibilità definitiva, ovviamente per la parte di competenza comunale perché la proprietà come è noto è del Comune dell'Aquila. Dopo un anno il centro riaprirà i battenti perché è imminente il rilascio dell'agibilità definitiva. Per quanto riguarda l'operato del Comune per il quale al contrario di qualcuno continuo a ringraziare i dipendenti di questa amministrazione, da marzo ad oggi si è riuscito a reperire tutte le carte, a fare una certificazione che mancava per poter fare l'agibilità definitiva che era quella energetica e quindi entro questa settimana a restituire l'agibilità definitiva alla struttura. Ora il discorso è che la struttura è stata aperta a dieci anni con un'agibilità provvisoria quindi per quanto riguardava noi poteva essere aperta lo stesso e poi nel frattempo fare le pratiche definitive ma non entriamo in questo dibattito. Ci è stato chiesto di fare un'agibilità definitiva dal CDA della Presidente dell'Azzo e abbiamo provveduto nei tempi più veloci possibili per quelli che sono un'amministrazione pubblica. Ma questo argomento è stato oggetto di scontro tra il consigliere del CDA Sara Cecala e la Presidente Eliana Morgante. La Cecala è intervenuta dopo un post dell'Associazione Studentesca Eolo che annunciava la riapertura della sala studio parlando di ostruzionismo da parte del CDA. La Cecala sostiene che invece la stessa più volte aveva sollecitato la riapertura mentre la Presidente aveva presentato una deliberazione per mantenere chiuso sulla scorta di presunti lavori da fare. Secca è stata però la replica della Morgante che ha accusato la Cecala di aver espresso voto contrario lo scorso 28 ottobre e parla di grande risultato dopo la scongiurata chiusura della Campomizi. La Cecala ha a sua volta replicato che l'El 28 non c'era. Come avrebbe potuto votare si chiede? Insomma una querella che però lascia spazio alla buona notizia che è quella della riapertura.